D'esta preoccupazione ai residenti di via 26esima strada a Bellocchi, un tombino ai margini della carreggiata che ha ceduto creando un grosso buco nella sede stradale, pericoloso anche per la presenza dei tondini in ferro che sono rimasti scoperti dal cemento. Già da diverse settimane finirci sopra per un pedone o per una bicicletta rappresenta un serio pericolo e questa evenienza data la posizione particolare di questo tombino proprio sopra un passaggio pedonale e a margine della carreggiata, spazio solitamente utilizzato dalle due ruote, non è poi così remota. Certo è stato posizionato, non si sa da chi, un birillo di quelli utilizzati dagli stradini per segnalare un pericolo, ma non è sufficiente. Una folata di vento un po' più forte, un'auto che passa a velocità sostenuta, una a qualsiasi causa accidentale e ciao ciao segnalatore. E quindi finirci dentro è possibilissimo, visto anche che il buco è proprio a filo con la sede stradale. Uno ci va in bicicletta, anche i bambini, perché può succedere a tutti, anziani, bambini, giovani, ma non la chiudono. E voi un po' l'avete detto a qualcuno? No. Però un po' che è così, da quant'è? Adesso non le saprei dire, un po' sì. E' un po'? Ma è pericolosa, ci hanno messo quello, ma non è che... Ci sono tante strade che sono state rifatte, da qualche parte non ci si è arrivati. Però quello è un pericoloso, perché giustamente... E' stato segnalato da qualcuno? A noi ci avete avvertito voi e siamo venuti a vedere. Eh, ma siete stati avvertiti voi, ma non è stato avvertito il Comune? Questo non lo so, bisogna dirlo. Bisogna dirlo? Lo faccio subito. I residenti approfittano questa mattina della nostra presenza anche per perorare, oltre ad un rapidissimo intervento del Comune a questo riguardo, anche le esigenze della comunità bellocchiana sulla viabilità ci sarebbe molto ancora da fare. Via 26esima strada è un'arteria di grande comunicazione, ma finisce in una strettoria. Ora che via prima strada è diventata a senso unico, servirebbe un collegamento migliore. E poi vedrebbero di buon occhio la realizzazione di una scuola media nel quartiere, che servirebbe non solo agli oltre 200 studenti che quotidianamente si spostano verso gli istituti secondari, più in centro, in città, ma anche per le zone nell'immediato entroterra, come Cucurano e magari Carrano.